Sì, va bene, ma questo mi permette soltanto di creare un contenuto dinamico. No, in realtà potete creare più chiavi, quindi quando voi andate a condividere un contenuto dinamico, potete condividere attraverso una chiave che non è la vostra personale, ma è una differente. Quindi, ad esempio, se andate su Docs, dal sito ufficiale, e Commands, qui avrete tutta la lista dei comandi. Cosa che vi consiglio di darci un'occhiata. In particolare, se io vado su Chiavi, quindi Key, qua mi dà un aiuto sul come crearle e sul come avere una lista e un'altra serie di cose. Io ora voglio vedere quelle che ci sono sul mio computer, quindi IPFS, Key, LS, Key, List, ecco. Ho già sbagliato. E ho soltanto Self, che è la principale. Voglio crearne una nuova, una diversa. Una che chiamerò Sito. Quindi IPFS. Per creare una nuova chiave devo dargli Key, Gen. E il nome. Ad esempio, la chiamerò appunto Sito. E gli do Invio. Ok, quindi bisogna dargli il tipo. Il tipo è uguale, T uguale RSA. Come possiamo vedere qui dall'aiuto. Vi consiglio di seguire questo, che è molto più semplice. Del Sites 2048. Va benissimo. E a questo punto, Sito, va messo dopo le flags. Quindi Sito. Ed è stata generata questa chiave. Che è il... Se gli do adesso Key, List. Abbiamo Self e Sito. Ora, io anziché utilizzare quell'altra, quella Self che ho utilizzato prima, posso utilizzare solo questa. E quando andrò a pubblicare i cambiamenti, gli dovrò dare un IPFS, Name, Publish. E oltre a Tutorial IPFS, gli dovrò aggiungere Key, Uguale, Sito. Ok, praticamente va aggiunto Key, come flag, non trattino K come avevo fatto io. E gli diamo Key, Sito. E gli dobbiamo dare l'Hash. Quindi quello che abbiamo creato prima. Quindi AS1. Incolla. E in questo momento utilizzeremo la nuova chiave di pubblicazione. Che utilizzeremo sempre quando pubblichiamo cambiamenti su questa cartella. Che è la nostra cartella Sito. Quindi non potremo sbagliarsi. Quella è il nostro interplanetario, nell'interplanetario nel Simpsen. Quello è il nostro riferimento. Ok, ora praticamente al nostro ID, quindi potremo ottenerlo tramite, eccolo qua. Ora, andando direttamente sul sito ufficiale, quindi pfs.io barra ipns barra, e gli diamo il nuovo hash generato per la nostra nuova chiave, è possibile vedere la stessa struttura, sempre mutevole, di prima. Ora, se voi volete vedere tutte le chiavi che avete e volete fare un backup, soprattutto delle chiavi, nel caso cambiate computer, nel caso non vogliate perderlo a prescindere, la cosa importante è entrare sulla cartella di pfs, keystore, Sito, e fatevi questo backup. E anche il backup di config, dove ci sarà anche la vostra chiave, self. Quello che consiglio io, a prescindere invece, è fare un selezionatutto, copia, e copiarvelo da qualche altra parte, così mantenete anche tutti i pezzettini di file che avete creato. Quando voi accedete, ad esempio, a questa cartella, di cui ho fatto appena l'accesso io, siete all'interno, ad esempio, di tutorial, voi in locale, se non l'avete pinnato, avete salvato comunque questo file, che tutti quanti i file di prova potranno accedere, voi state aiutando lo swarm, però, se voi per caso gli date un ipfs repo garbage collection, vedete che voi avete cancellato tutti questi file. Ora, per caso, questi potrebbero essere, ad esempio, uno di quelli che contiene questo testo di prova. Se voi ora riaccedete di nuovo a questo file, ma avete fatto una garbage collection, e chi l'ha condiviso originalmente ora non è online, e voi l'avete, non c'è nessuno che lo sta condividendo, non è neanche più nella check di ipfs, perché ogni tanto anche lui esegue un garbage collection, inoltre si esegue in automatico, dopo un po' con da raggiungere 10 giga, a seconda di quello che scegliete voi. Cosa succede? Che avete perduto il file per sempre? Sbagliato, perché voi a quel file ci tenete, voi a questo triangolino ci tenete. Quindi per poter salvare questo file per sempre, gli dovrete dare un... Allora, ne conosciamo l'indirizzo di questo file, perché non abbiamo utilizzato questa struttura, ma abbiamo fatto l'accesso direttamente dal file, quindi... File di prova, eccolo qua. Per poterlo salvare per sempre, perché ci piace, possiamo fare una cosa. Gli diamo un ipfs pin, no pj, pin, add, e in questo momento quello che aggiungiamo noi sarà pinnato, quindi questo, pinnet recursively. Quindi, perfetto. Ora il nostro file, anche se eseguiamo una garbage collection, quindi se hv, anche se eseguiamo una garbage collection, comunque il file continuerà ad esistere, ad esempio, pfs, pin, ls, e se hv c'è e non lo perderemo mai. Una cosa che vi consiglio è che se avete Firefox, potete andare su i componenti aggiuntivi, insomma, addons, e qui dentro è possibile trovare, andate su extension, ipfs, è possibile trovare un addon che vi pina automaticamente le cose, vi connette allo swarm, vi dice a quanti siete connessi, eccolo qua, ipfs companion, quindi installa, downloading, si sta installando, ok, eccolo qua. Praticamente è questo quadretto, qui in alto, a destra, e questo vi agevolerà molto, anzi, vi dà addirittura open web UI, tramite la quale potete accedere a un'interfaccia grafica dell'interplanetario file system. quindi adesso non vi sto ad annoiare perché ho la connessione che fa schifo, comunque apri preferenze, e da qui automatico modulo, abilita e disabilita automaticamente, publicate waste, nel caso dovete accedere a un file che è sull'ipfs, ma voi siete sul web, normale non avete il pfs attivo, vi accederà allo stesso, tramite questi indirizzi, questi gateway, e voi potete anche aggiungerne volendo, ad esempio, se ce ne fosse uno nuovo, nuovo indirizzo, punto, io, ad esempio, e utilizzerò anche questo qua, per accedere poi, ai file. custom gateway host e localhost, 127.001, la porta, se volete modificarla, e dns, e queste qua sono funzioni sperimentali, che non sono ancora, diciamo, ben stabilite. using custom gateway, quello abilitato, tutte le richieste, a qualsiasi gateway pubblico, saranno inviate, a quello custom, ovvero, se voi accedete, tramite ipfs.io, c'è questo gateway qui, a questo file, e lui viene comunque salvato in locale, quindi, è una cosa fantastica, perché è stato agevolando, l'utilizzo dell'ipfs, quindi, io consiglio di tenere sempre attivo, attualmente sono collegato a 56p, se vediamo se è ricaricata la web UI, no, ad ogni modo, se io accedo a questo file, viene comunque salvato sul mio computer, mentre, in modo alternativo, senza questo plugin, se io accedessi a questo file, tramite il gateway, allora, il file non sarebbe in locale, non starei tanto, il file system, e, starei semplicemente vedendo un file, vedo un video su youtube, l'ho visto, chiudo, e basta, mentre, nel caso contrario, vedo il video su youtube, sto scaricando un pacchetto di dati, e, e sto aiutando, altri a vederlo, quindi, io consiglio di tenerlo sempre attivo, e, questo dovrebbe essere tutto quanto, come dicevo, se avete dubbi, scrive, eccolo qua, si è caricato, di pfs, connexion, mi fa vedere, a quanti piersi sono connessi intorno al mondo, quindi, esattamente la posizione nel mondo, di queste persone, e, file, ho tutti i file che sto condividendo, quindi, row, eccolo qui, sto condividendo questo, sto condividendo, questo, sono tutti quanti i pezzettini, che ho creato io, DAG, sono praticamente i pezzettini, proprio di file, che sto, che io ho all'interno del, del mio computer, che, ora qua non me lo fa vedere, perché, penso che sia un po' pagata, questa, web UI, però, vabbè, ce l'abbiamo, buono così, e, ecco il config, nel config, abbiamo tutti quanti, il, abbiamo questo file qua, tps, config, è lo stesso, santo che posso modificarlo, da questa interfaccia grafica, che magari, mi piace di più, ok, questo penso che sia tutto, se avete domande, scrivetemi, è difficile trovare, informazioni in giro, in quanto, tecnologia relativamente nuova, perciò, esplorate, aiutate, se avete qualche competenza, di programmazione, e aiutate anche soltanto, mantenendo attivo, il nodo, grazie, sono Francesco Yoshi, vi trovate anche su Telegram, come fra Yoshi, e un giro un po' per il web, quindi, ad esempio, su Facebook, piuttosto che, su Minds, che praticamente, è un social network, decentralizzato, e c'entra, appunto, ad eliminare Facebook, comunque, a sostituirlo, a essere un'alternativa, vi trovate anche sul, ZeroNet, sulla rete Zero, che è un web, distribuito in HTML5, JavaScript, se non, cioè meglio, CoffeeScript, scritto in CoffeeScript, ed è un'ottima integrazione, per l'interplanetario file system, quindi, i file potrebbero essere, sull'IPFS, mentre, il web normale, potrebbe essere, su, la ZeroNet,